Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi andremo a vedere cosa mangio a pranzo il venerdì. Allora per prima cosa verso in una padella un bicchiere di acqua e vado a grattugiare delle zucchine perché voglio prepararmi della pasta. Quindi grattugio le zucchine e le lascio cuocere in acqua ed un pizzico di sale. Ma di sottofondo che se la ride. Poi vado a pesare circa 70 grammi di pasta. Quindi la pasta regolatevi in base anche a quello che avete scritto nella dieta. Insomma io oggi ne mangio 70. Una volta che le zucchine sono cotte vado comunque a cuocere la pasta e nel frattempo sbatto anche un uovo aggiungendo sale e pepe. Le spezie potete metterne quante ne volete. Quindi se nella zucchina volete aggiungere che ne so qualche altro tipo di spezia, la curcuma, lo zafferano, se volete aggiungere del basilico. Insomma divertitemi come volete in cucina. L'importante che sia una cucina salutare. Appunto la pasta è cotta la vado ad aggiungere alle mie zucchine cotte, comunque cotte solo in acqua e aggiungo anche l'uovo. Vado a mescolare il tutto ed il piatto direi che è decisamente pronto. Quindi non solo è veloce, è un piatto semplice, sano e devo dire molto molto gustoso. E nulla io in piatto e vado a mangiare. Aggiungo ovviamente sempre il mio cucchiaio di olio che fa molto bene. Quindi mi raccomando scegliete un olio extravergine di oliva. E nulla io spero che questo video vi sia piaciuto. Anche Emma vuole sapere cosa ne pensate. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!